Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Ok, oggi vediamo come si fa a collegare lo smartphone alla TV. Una cosa molto utile che ci permette infatti di poter visualizzare su schermo molto più grande i contenuti presenti sul nostro device, quali principalmente foto e video. Per poter fare questa cosa avremo bisogno di un televisore smart capace di connettersi alla rete wifi, di un comunissimo router e ovviamente di uno smartphone avente la funzione di collegamento a schermo secondario. Tale funzione è presente oramai in quasi tutti i telefoni di fascia medio alta e prende il cosiddetto nome di mirroring. Detto questo andiamo a vedere la procedura per fare il collegamento. Come prima cosa dobbiamo interfacciare la nostra smart tv al nostro router, ossia far sì che ad ogni sua accensione si colleghi automaticamente ad esso. Per far questo basta semplicemente connettere la nostra tv alla rete wifi domestica, nello stesso modo come connettiamo il nostro smartphone quando dobbiamo collegarci ad internet tramite router. Entriamo quindi nel menu rete del nostro televisore, premendo il relativo pulsante sul telecomando, che in genere si identifica con la voce menu oppure settings. Fatto ciò, utilizzando i tasti freccia del telecomando, accediamo alle opzioni relative alla connessione, che in questo esempio si trovano selezionando la voce connessione di rete. A questo punto scegliamo come vogliamo fare la connessione, ossia in maniera automatica oppure manuale. Nel nostro caso, non avendo bisogno di impostare settaggi particolari per la rete, possiamo tranquillamente optare per il metodo automatico. Spostiamo quindi la selezione su auto e diamo ok dal telecomando. La smart tv inizierà a fare la ricerca delle reti wifi disponibili, visualizzando su schermo quelle a cui è possibile connettersi. Selezioniamo quindi la nostra preferita e diamo ok dal telecomando. Inseriamo poi la password per la connessione, che corrisponde alla parola chiave necessaria per connettersi al wifi tramite il nostro router. Per inserirla basta semplicemente scrivere la nostra password lettera per lettera tramite il nostro telecomando. Questo si fa scegliendo ogni lettera dall'elenco sottostante tramite i tasti freccia del telecomando, inserendola poi nel campo chiave cifratura tramite il relativo tasto del telecomando, che è in genere indicato in un'illustrazione. In questo caso corrisponde al tasto centrale circondato dai tasti freccia. Inserita tutta la sequenza di lettere possiamo poi concludere la connessione confermando la password tramite l'apposito tasto, il quale viene anche indicato nell'illustrazione. In questo esempio l'ok corrisponde al tasto circolare che si trova in basso a destra dei tasti freccia. Bene, una volta connessa la smart tv alla rete wifi possiamo procedere ad utilizzare la funzione mirroring per il collegamento del nostro device. Per far questo dobbiamo innanzitutto attivare la cosiddetta funzione dalla nostra tv per poter permettere il collegamento dello smartphone. Questo si fa accedendo al menu app del nostro televisore tramite l'apposito pulsante del telecomando, che in genere è contraddistinto dalla sigla APPS. Entrati in tale menu spostiamo la selezione sulla voce mirroring e diamo ok dal telecomando per attivarla. Facendo così la smart tv si metterà in modalità attesa. Non ci resta quindi che abilitare il collegamento dal nostro smartphone. La funzione mirroring è raggiungibile in genere dal menu rapido a tendina del cellulare, identificata da due piccoli schermi adiecenti. Se tale funzione non compare è possibile aggiungerla modificando la visualizzazione degli elementi del menu rapido tramite l'opzione incorporata in esso che in questo caso corrisponde all'icona raffigurante una piccola penna. Cliccando su tale icona infatti sarà possibile aggiungere tutte le funzioni che interessano. Ad esempio volendo aggiungere proprio la funzione mirroring basterà identificarla nelle funzioni disponibili, tenere premuto sulla sua icona e trascinarla infine nell'area corrispondente al menu rapido. Ok a questo punto l'ultima cosa da fare è attivare il mirroring dallo smartphone. Toccando la relativa icona lo smartphone inizierà la ricerca degli schermi e se tutto è stato fatto correttamente troverà la Smart TV sulla quale collegarsi visualizzando il suo nome sul display. Cliccando sul nome della TV questa ci notificherà se vogliamo connetterci. Cliccando su sì il collegamento verrà ultimato e allora potremo visualizzare sullo schermo della nostra Smart TV tutto quello che succede sul display del nostro smartphone. Cosa utile per visualizzare ad esempio foto che abbiamo fatto o video che abbiamo registrato sperimentando così un'esperienza di visione migliore. Ok per oggi è tutto grazie della visione se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale oppure mettete un mi piace oppure lasciate un commento oppure condividete. Detto questo ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!